Caro bollette che riguarda anche la sanità privata, in quali termini? In termini moltiplicato 5, vi dico un numero, bolletta dell'energia elettrica dell'agosto 2021 17.000 euro per centro chirurgico toscano, agosto 2022 89.000 euro. Il nostro non è un settore, non è una struttura che possa fare significativi risparmi diminuendo la temperatura perché i malati non possiamo farli stare al freddo, le risonanze magnetiche e le TAC o si fanno o non si fanno e quella è l'energia che consumano, quindi dobbiamo utilizzare altri sistemi per sopravvivere. Qual è l'appello verso la politica? L'appello verso la politica ovviamente è il primo, non tanto verso la politica locale perché penso possano far poco, soprattutto il governo che verrà e che faccia svelto, molto svelto a portare qualche correttivo. Noi nel frattempo abbiamo fatto quello che è il nostro potere, pensiamo seriamente di utilizzare generatori diversi che producono energia elettrica, diversa dalla rete che utilizziamo adesso e soprattutto abbiamo chiesto e ottenuto dalle persone, specialmente dai medici che lavorano con noi, di guadagnare un po' di meno perché questi soldi devono essere dedicati a pagare la bolletta della luce se vogliamo andare avanti. E i medici come hanno risposto? Per il momento bene, oddio, fanno sempre in tempo a lamentarsi, al momento non si è lamentato nessuno. Quanto avete ridotto? Beh insomma, il compenso ai medici circa il 10% di quello che prendevano fino a pochi mesi fa. Poi speriamo di risparmiare significativamente qualche decina di migliaia d'euro con la generazione di corrente da fonti alternative. Abbiamo già ordinato, però saranno pronti fra molti mesi, pannelli fotovoltaici che dovrebbero dare due terzi dell'energia, del fabbisogno energetico. Insomma, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile fare. Nel frattempo dobbiamo sopravvivere. L'ultimo numero, la nostra bolletta stimiamo che è già aumentata di 100.000 euro al mese, che per le nostre risorse sono una cifra enorme. Grazie.